natale del signore dal libro del profeta isaia come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza che dice a sion regna il tuo dio una voce le tue sentinelle alzano la voce insieme esultano poiché vedono con gli occhi il ritorno del signore a sion prorompete insieme in canti di gioia rovine di gerusalemme perché il signore ha consolato il suo popolo ha riscattato gerusalemme il signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro dio salmo tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro dio cantate al signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro dio il signore ha fatto conoscere la sua salvezza agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia egli si è ricordato del suo amore della sua fedeltà alla casa di israele tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro dio tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro dio acclami il signore tutta la terra gridate esultate cantate inni tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro dio cantate inni cantate inni al signore con la cetra con la cetra il suono di strumenti accordi con le trombe e al suono del corno acclamate davanti al re il signore tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro dio dalla lettera agli ebrei dio che molte volte in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del figlio che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza e tutto sostiene con la sua parola potente dopo aver compiuto la purificazione dei peccati sedette alla destra della maestà nell'alto dei cieli divenuto tanto superiore agli angeli quanto il più eccellente del loro è il nome che ha ereditato infatti a quale degli angeli dio ha mai detto tu sei mio figlio oggi ti ho generato e ancora io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio quando invece introduce il primo genito nel mondo dice lo adorino tutti gli angeli di dio dal vangelo secondo giovanni in principio era il verbo e il verbo era presso dio e il verbo era dio egli era in principio presso dio e tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste il lui era la vita e la vita era la luce degli uomini la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta venne un uomo mandato da dio il suo nome era giovanni egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce perché tutti credessero per mezzo di lui non era lui la luce ma doveva dare testimonianza alla luce veniva nel mondo la luce vera quella che illumina ogni uomo era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui eppure il mondo non lo ha riconosciuto venne fra i suoi e i suoi non l'hanno accolto a quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di dio a quelli che credono nel suo nome i quali non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo ma da dio sono stati generati e il verbo si fece carne venne ad abitare in mezzo a noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria gloria come del figlio unigenito che viene dal padre pieno di grazia e di verità Giovanni gli dà testimonianza e proclama era di lui che io dissi colui che viene dopo di me e avanti a me perché era prima di me dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia perché la legge fu data per mezzo di Mosè la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo Dio nessuno lo ha mai visto il figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del padre è lui che lo ha rivelato Dio nessuno lo ha mai visto grazie a tutti